Ciao a tutti ragazzi, qui T-Black Game e bentornati a questo mio nuovo video. Oggi sono qui per mostrarvi un glitch su Transit Zombies di Black Ops 2. Questo glitch ci consentirà di raggiungere un posto da quale potremo essere, diciamo, immortali dagli zombie, ecco. Innanzitutto dobbiamo aggiungere la scaletta al nostro pullman in modo da poter salire su di esso, eccola, o la scaletta o la botola. Una volta costruita dobbiamo raggiungere l'ultima fermata alla città. Una volta lì, quando il pullman sta per ripartire, per ritornare alla stazione, saliamo su di esso. Quando raggiungiamo più o meno la tendina che, diciamo, sporge dall'edificio dove c'è il Juggernaut, dobbiamo saltare su di essa. Attenzione, guardate, verso il basso c'è una panchina. Ecco, quella panchina forma una barriera invisibile verso l'alto, quindi noi dovremo saltare una volta superata la panchina. Una volta saltato saremo praticamente all'interno della tendina. Da sotto c'è il risultato che comunque gli zombie ci prendano, però se vi posizionate bene riuscirete, diciamo, ad evitarciò. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace. Qui, T-Black Game, al prossimo video. Grazie a tutti.